Arrestare un sacerdote sembrano i tempi oscuri di quando ancora non era caduto il muro, di quando ancora non c'era un polacco sul soglio di Pietro. Invece sta accadendo anche in questo periodo, anche in questo 2024. Io ringrazio subito il collega Vladimiro Rezziok di averci rilanciato una notizia che sinceramente altrimenti c'era sfuggita, di cui il mainstream giornalistico non parla. Grazie e buongiorno Vladimiro. Buongiorno, buongiorno e buona settimana. A proposito di settimana, era proprio la settimana santa quando tutto è cominciato e ci vuoi riepilogare? Allora, prima di tutto dovrei in qualche modo presentare il padre Mikhail Kolszewski. È un giovane deoniano polacco, molto attivo nella spera sociale. Lui ha fondato e dirige la fondazione Profeto. E questa fondazione si occupa, tra le altre cose, anche delle vittime della violenza. Vari tipi di violenza. Qualche anno fa, lui con i suoi collaboratori hanno avuto l'idea di creare il centro che lui ha chiamato Arcipelago, isole libere della violenza, per aiutare proprio le vittime della violenza fisica, della violenza economica, della violenza tucura, anche criminale. Ma questo è avvenuto a Varsavia, nella capitale o in altre città? Sì, lui abita a Varsavia e ha voluto creare questo centro, Arcipelago, proprio nella capitale, nella periferia della città. In quel periodo, con il precedente governo, il Ministero della Giustizia disponeva di un fondo, Fondo Giustizia. E questo fondo ha assegnato, in un concorso, i fondi per la costruzione del centro. Adesso, quando il centro è quasi ultimato, perché tutti gli edifici sono già costruiti, bisogna mettere a posto solo gli interni, allora esce fuori la notizia dell'arresto di Padre Michau. Viene arrestato, come ha detto lei, durante la settimana santa, martedì, se non sbaglio, 23 marzo, e dopo una campagna mediatica odiosa, fatta dai media anticlericari pro-governativi, con le accuse false, e adesso sappiamo anche che anche la forma dell'arresto ricordava i vecchi tempi del regime comunista. Prima di tutto, Padre Michau non è stato arrestato dalla polizia, è stato arrestato dagli agenti dell'Agenzia della Sicurezza Nazionale, che si sono presentati con i volti coperti e con i passamontagna. L'hanno portato in arresto con le macchine a sirene spiegate, e quando voleva andare al bagno si sono fermati proprio nella più grande stazione di servizio, per strada, ammanettato, è stato portato al bagno, con l'agente che faceva, scattava le foto di questo prete ammanettato, assistito, circondato dagli agenti in passamontagna. Sì, noi, questa storia naturalmente è ricca di particolari che sono anche odiosi, del resto non a caso ho parlato di torture, però che sono l'elemento più importante di cui parlare. Io, tra l'altro, devo ringraziare per la foto anche, oltre a Vladimiro, Darius Filpiak, che ci ha concesso di mandarla in onda. Questo sacerdote dunque, per quale motivo e come hai accertato che è nel mirino degli anticlericali e perché questi anticlericali dovrebbero avere tanto ascolto presso il Ministero della Giustizia o comunque presso il governo polacco? Allora, qui le notizie dalla Polonia vengono filtrate dal mainstream giornalistico. e bisogna ricordare che le ultime elezioni nell'autunno scorso sono state vinte dal partito del governo di allora, dal partito conservatore PIS, con 35%. Purtroppo non era la maggioranza assoluta che dava la possibilità di formare il governo. Si è formata la coalizione di più di dieci partiti, tra cui anche il partito La Nuova Sinistra, che praticamente sono gli eredi dei comunisti polacchi, dei vecchi comunisti polacchi. Questa gente in qualche modo detta la linea anticlericale dell'attuale governo. E' sicuramente il governo più anticlericale dal 1989, dalla svolta democratica. Quindi da 35 anni e questo è un elemento chiave. Adesso ritorniamo alla questione delle fonti. Cioè noi rilanciamo il fatto che è stato torturato perché ne ha parlato proprio il legale del sacerdote, l'avvocato Christoph Wasowski, che tra l'altro appunto in qualità di difensore ha visto anche lui conculcati dei diritti fondamentali. Sapete che una delle caratteristiche più terribili quando si è accusati è appunto non avere a disposizione in modo preciso tutte le garanzie per la difesa. Altrimenti si entra in quello che è chiamato in generale l'incubo kafkiano, che chiunque può subire. Ma in particolare lo trovo appunto odioso e grave nei confronti di un sacerdote che aveva operato semplicemente per migliorare la condizione sociale di tante persone, immaginiamo anche donne, visto che tu parlavi di vittime di violenza. Abbiamo ancora un minuto. Come possiamo noi fare qualcosa per questo sacerdote che ancora è purtroppo in carcere? L'unica cosa è di far sensibilizzare gli altri al caso di padre Michał Olszewski. L'opinione pubblica dovrebbe sapere che queste cose succedono adesso in Polonia. Prima di tutto, perché si è fatta questa cosa? Probabilmente qualcuno vuole per via giudiziaria appropriarsi di un centro già costruito da un'organizzazione cattolica e dare questo centro a qualche fondazione o organizzazione legata al governo attuale. Ma il reato precisamente prevede addirittura appunto la carcerazione preventiva? È un reato così grave quello di cui è accusato? Assolutamente no. E questo riflette e spiega che il caso è puramente politico. Non ci sono gli elementi per la carcerazione preventiva. In Polacco c'è anche un altro termine che parla della carcerazione esplorativa. Praticamente si tiene qualcuno imprigionato per farlo parlare. Come nei vecchi tempi del regime. Eh già, io sono rimasta agghiacciata. Non riesco davvero a volte a trovare le parole. Forse il silenzio appunto sottolinea meglio quello che il collega ci ha detto. Affidiamo evidentemente alla vostra sensibilità e anche alle vostre preghiere. grazie, buon lavoro e se può faccia arrivare anche da parte nostra l'assicurazione della solidarietà e della vicinanza a questo sacerdote, a padre Michal. Il cognome Oszeschi l'avrò pronunciato anche male ma spero che di padre Michal al momento in prigione ci sia solo lui, solo uno. Vi ringrazio per la vostra sensibilità e vi prego le preghiere presso la tomba di padre Pio per questo sacerdote polacco. Certo, e dunque diciamo con ancora raccapriccio che chiudiamo questa pagina con la speranza di potervi riaggiornare dicendo che padre Michal almeno è stato liberato se non dalle accuse almeno che possa godere dei domiciliari. È il momento di un passaggio in regia e poi ci ritroveremo ancora con attualità.